Buongiorno a tutti, sono Anna Cascone, rappresento la Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane di Roma, sono la responsabile della biblioteca La Salliana, lavoriamo in concerto io, l'archivio centrale e il museo e mettiamo a nostra disposizione le nostre risorse al fine di promuovere quella che è la cultura e la pedagogia La Salliana. Abbiamo deciso in questo momento che quelli che sono i nostri fondi, i nostri beni storico-artistici, quello che è il messaggio La Salliano non deve essere un messaggio o un bene esclusivo della rete La Salliana. Grazie a BeWeb noi ci siamo aperti al pubblico, siamo stati incentivati a pubblicizzare le nostre raccolte e grazie a questa manifestazione Aperti al Mab abbiamo potuto finalmente presentare quelle che sono le nostre attività. Mab è rete, Mab è apertura.